Grande successo ieri, 23 marzo, nelle sale cinematografiche italiane per la prima di Passion del regista Mauro John Pece. L'autore cinematografico ha presentato il film in Val Vibrata, rendendo omaggio alla sua terra d'origine, insieme alle maestranze tecniche e agli attori, fra cui Pier Giorgio Cini, Gabriele Silvestrini, Denis Bacchetti, Mara D'Alessandro, Giacinto Valmarini e la protagonista, Corinna Coroneo. E questo film è poi dedicato a tutti quelli che, anche in questa nostra regione, ma in tutta Italia, cercano di coltivare ancora il sogno di un grande paese. Io comunque sono qui per cercare di portare l'attenzione su un'arte che è palesemente calpestata nel mondo, è quella della moda, del manufatturiero, di chi viveva di calzature, di borse, di vestiti, e che è un'altra grandissima arte. E anche il cinema sta in questa situazione, ma questo riesco a farlo bene per ora. Buona visione! Grazie! 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 Grazie!